Insieme per gli altri non è nuovo ad attività di beneficenza e quest'anno si ripropone con una nuova opera che è fatta sempre con lo scopo di aiutare gli altri. Sì, senza altro, abbiamo fatto tante altre iniziative, abbiamo avuto sia, non so se si ricorda, il libro Canti, Cunti e cose di Dio che erano delle preghiere in dialetto, abbiamo fatto anche una rappresentazione teatrale lì o là che è piaciuta tanto, infatti l'abbiamo ripetuta, abbiamo fatto dei concerti, comunque tutto questo solo e esclusivamente per aiutare appunto il prossimo coloro che stanno meno bene di noi. Quest'anno cosa avete realizzato? Questa volta è venuto fuori questo mediometraggio, durante il Covid, non so se mai per merito del Covid o per colpa del Covid è venuto fuori una storia particolare, simpatica e allora abbiamo deciso di realizzare questo mediometraggio, dove essere un corto poi è diventato medio. È una cosa molto simpatica, divertente per passare un'ora in maniera rilassata perché ci vuole vivere un po' in tranquillità durante questo periodo molto complicato. La location è quella dell'Abbadia Grande, l'Arena Giardino, quindi di sera poter godere insomma del cinema sotto le stelle. Dobbiamo ringraziare Sino che ci mette a disposizione l'Arena, senza di lui non avremmo potuto realizzare questa rappresentazione per tre sere di seguito, sia giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23. Per chi vuole insomma esserci c'è possibilità di prenotare? Allora per quanto riguarda il 21 già i biglietti sono tutti sauriti, per il 22 e il 23 invece possiamo accontentare tante altre persone. Qual è lo scopo che mette insieme tante persone anche che fa professioni diverse, insomma per raggiungere poi e realizzare un'opera di questo tipo? Allora ci sono tante persone che appena io dico dobbiamo fare una determinata cosa per beneficenza, si mettono subito in gioco, sia perché hanno la passione per la citazione, sia perché appunto devono fare qualcosa di buono e tutti quanti hanno accettato questa idea con molto entusiasmo. Alcuni sono attori che hanno fatto già parte della rappresentazione teatrale lì o là, altri sono nuovi, ci sono tantissimi giovani, una quinticina sono tutti giovani alla prima esperienza ma tutti bravissimi.